Prende queste stimolazioni in questo modo, non come un attacco personale, come un attacco personale, perché è uno di quelli che ha fatto l'articolo e stavo parlando con lui, anche prima, credo che il modo in cui si ragiona sia questo, non per distruggere, ma per costruire, se ci sono degli errori, che poi errori dovuti anche al passaggio della manovra Monti, naturalmente, quindi il cambiamento è dato a questa, abbiamo deciso di sospendere e dare la possibilità di fare dei moduli per segnalare queste discrasie che ci sono state.